Ape teatro spettacoli in movimento presenta album del territorio una stagione di musica prosa cabaret e magia il 18 luglio alle ore 21 nel borgo antico di bagnaria si inaugura il più piccolo politeama del mondo nell'aspetto uguale ai teatri girovaghi di epoca barocca ma con un'anima contemporanea e rock un territorio sorprendente l'oltrepopavese seguiteci per boschi vigneti eremi ed antichi borghi qui la vita al profumo della terra e il sorriso dell'accoglienza siete tutti invitati alla festa musicale del 18 luglio a bagnaria oppure in una delle prossime tappe del tour in oltrepo il 26 luglio a sante eusebio il 2 e 10 agosto nel borgo di fortunago il 14 agosto a ponte crena il 15 agosto a sante eusebio il 21 agosto a bagnaria borgo antico l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti vi aspettiamo a 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